benvenuti in questo nuovo di gt5 pensate se nella vostra vita tutto quello che toccate diventa diamante tipo tocco pere e diventa un diamante magari magari davvero così non parli vale un sacco di soldi no mi vendo ti vendo io mi vendo non puoi venderti si mi auto vendo non si può comunque sta cosa nella vita reale è impossibile ma almeno su gt5 non possiamo più uscire no sta questa è colpa tua io ti ho detto prima esco e poi facciamo ma hai fatto e invece tu mi fai uscire è attivato le cose sbagliate sto per staccarti il braccio te lo faccio giù la cap è il potere che tocca diventa diamante aspetta che magari riusciamo in qualche modo ad uscire di casa guardate che bello rimaniamo dentro casa rimaniamo dentro casa per sempre perché va sempre male una cosa che noi facciamo cioè che bug è che è scomparso il mondo solo perché ho tolto una porta me lo potete spiegare perché capita solo a me e poi perché sta camminando come se ne fai la cacca cosa ti è successo non posso correre guarda eh stef questo penso che sia ah perché hai schiacciato control quindi da vero impressionante bene sei bravissima però perché non posso esagliarmi perché sono dentro casa certo ma dentro aspetta c'è tipo nostra moglie no non funziona eh sono molto triste sono molto ma neanche devo stare accovacciato così signora non vuole diventare un bel diamante non funziona sulla signora peccato stai fermo mi tenta all'improvviso ti giri flop pè per le dobbiamo risolvere il bug si ok allora 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 abbiamo una nuova possibilità di uscire di casa no secondo me dovresti allora disabilitare il tuo toko no no è più bello così perché bisogna far vedere che la vita di chi trasforma tutto in diamante può anche essere difficile comunque in questa casa sembra che le cose vadano in generale molto meglio esatto però il problema è che non so come si esce in generale allora buongiorno buongiorno ho paura ti prego ok qui è chiuso feri come cavolo usciamo da questa casa me lo chiedi da qui da qui da qui da qui devo stare attento a qualunque cosa tocco il cane deve starmi lontano no perché non voglio trasformare il cane in un diamante cioè in realtà un pochino si eh allora ma perché è tutto mentre siamo una zanzara stupida questo è aperto no si siamo liberi ok ok rischiato allora 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 riusciamo fuori riusciamo definitivamente fuori quindi facciamo così esatto basta bello 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 allora mi dissocio no stai tutto a posto tutto a posto dai sul cane non funziona meno male è andata bene niente sulla sua cuccia allora secondo me funziona sto iniziando a capire sugli oggetti che si possono muovere ok capito non su quelli che sono ancorati come la cuccia del cane ok comunque benvenuti in questo nuovo video dopo 43 minuti siamo riusciti finalmente a iniziare a giocare e adesso vi mostriamo l'incredibilità di tutto ciò cioè io vado verso un'auto buongiorno signora vuole diventare ricca come la morte in tutti i sensi ecco prego signore mi scusi ma prenda prenda i suoi diamanti signore non vuole diventare un diamante anche lei è bellissima e beh almeno guarda quanto si inquina meno eh si mi ha fatto un gestaccio mi ha fatto un gestaccio se do i calci non lo trasformo e se tocco si si che potere incredibile Steph la polizia trasformi tutte le auto delle polizie però poi mi sparano lo so vediamo allora stanno arrivando tanto hanno visto i diamanti hanno già capito allora quindi per la logica di fare io ad esempio potrei trasformare questo cestino vedi e anche quest'auto si ok e anche questo palo perchè questo io lo posso ok no questo non si può robare non si poteva ho sbagliato buongiorno signor polizia tenga siete ricchi finalmente arrivederci grazie ma se voi pensate che sia tutto qui e che noi passeremo 45 minuti solo a trasformare le cose in diamanti cosa comunque molto divertente vi sbagliate di grosso allora fare prima la pioggia o prima le esplosioni no lo stai spoilerando no dovevi dire prima quella cosa o prima quell'altra cosa e non avresti capito nulla allora secondo me la pioggia stef lascia in pace i cani e io voglio trasformare un cane in un diamante no per fortuna non è stata programmata così stef anche la posizione mentre mi stiamo seguendo no beccato alto là al sudore quale delle due vuoi fare pioggia benvenuti nella pioggia di diamanti siamo ricchissimi è bellissima questa è troppo bella più o meno un po' pericolosa prende un'auto in pieno guarda penso che lo scopriremo a breve perchè sta grandinando diamanti uh l'hai visto? eh si eh fa casini eh eh voglia cioè da una parte di un tirrico dall'altra è un casino cosmico buongiorno può prendere la gente? si l'ha preso l'ha preso no 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 l'auto però io voglio vedere i pedoni schiacciati dei diamanti aspetta 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 buongiorno ma li sta prendendo tutti purtroppo ha preso anche a me mentre ridevo però mi scudai fatemi camminare è morto? no sta bene signora tutto a posto? ok l'importante è che state bene occhio no poverina sta bene facendo a posto e poi poverina sta bene no però questo ne ha presi due insieme però la signorina comunque regge tanti diamanti si si quindi siamo contenti di questa cosa questo purtroppo non può segnare la stessa cosa è letteralmente morto schiacciato da un diamante cioè io credo che sia veramente difficile come cosa e secondo me dobbiamo passare alle esplosioni faremo è che la pioggia piace soprattutto quando colpisce in pieno la gente vado che roba brutta però la vale di più cosa abbiamo visto? perché è un diamante rubino questo è sparito subito si scompaiono perché altrimenti laggeresti troppo quindi è giusto così però è stato terribile mamma mia Steph che paura eccoci qui e voi direte è lanciagranate cosa ha preso Steph? è un palismo lanciagranate perché non funziona? è un lanciagran è un lanciagran è un lanciagran avevate ragione avevate ragione ho capito ho capito ho capito guarda ok stai morendo no no hai visto? un diamante vivente la morte porta un diamante ho capito però secondo me adesso funziona si ho capito quello che dice ma l'abbiamo fatto per fregarli giusto? si si per fare una bellissima gag si stiamo ridendo tutti mi sono spawnato la panchina quindi allora la teoria di Steph è che se non abbiamo il tocco esatto non funziona neanche il diamond launch quindi noi adesso lo abbiamo di nuovo anche perchè mi sto spaventando la mod l'ho trovata non so dove nei meandri delle mod di GTA e l'ho testata e funzionava quindi ho detto no come possibile allora scegli tra queste quattro persone in mezzo in mezzo di due in mezzo di due buongiorno signori diamanti lei è rimasta impassibile signora i diamanti signora è mortale la signora sono tornati da ora a chiacchierare normalmente si 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 cioè c'è un matto che vi spara diamanti in faccia niente non frega nulla è così è impercettibile signora impercettibile però imperturbabile impercettibile impercettibile signora ora ha percepito qualcosa secondo me si ma vedete questa è la dimostrazione ma questi sono pangati a livelli uscini sono pangati cioè non è possibile cioè no stef però hai distrutto la nostra storia no 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 frena non puoi distruggere la nostra storia è morta ok ok è smonato cioè state scherzando siete veramente e lui mancabilmente torna a fumare questo per far capire quanto fanno male le sigarette perché anche se vieni colpito da dei diamanti in faccia comunque lui pensa solo a quello e nel mentre ci sono i resti delle altre volte in cui ci ha provato vedi si guarda guarda tutte le sigarette le sigarette per terra e lei non ha molta voglia di vivere comunque non abbiamo anche solo no stef non ho colpi purtroppo meno male lasciali no è è giusto che rimangano lì a parlare per sempre va bene allora prego vada vada io voglio vederla l'auto come ci siamo riusciti arrivederci arrivederci credo che l'anzia granate possa trasformare le auto si ragazzi mod dell'anno salve signora ok che l'anno è quasi finito ma mod dell'anno a mani basse è bellissimo vada vada pure si 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 solo io comunque che bell'auto ho una teoria secondo me quando colpisco il veicolo trasformo anche la persona che è dentro quindi guarda maglietta rossa no no le persone comunque non le puoi toccare no ma l'ho pensato perché guardali in due sai perché l'ho pensato dimmi no poi lo dico io no non te lo dico no lo devo dire vai non sono io che ho trovato questa mod è la mod che ha trovato è la mod che ha trovato te questa scelmenza come ti è venuta in mente ho capito è la mod scegliere il mago no allora voglio vedere sparando a raffica ok facciamo un bel po' di casino ma non troppo e questa è una cosa che volevo vedere non le auto così comunque è morto ma come è morto è morto ma signore è morto è risuscitato hai trasformato il sedile no Steph quelli non li devi toccare eh lo so però volevo fare può guidarla aspetta 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 un attimo ci sono Steph no 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 ho trovato la più divertente del giorno dimmi ascoltami trasforma un'auto e prova a salirci non fa no senza avvicinarti il sedile premendo F quindi con l'animazione magari non riesci a non vabbè questo è molto contrario se premo F non me la contempla come veicolo guarda dove è andato quindi riusciamo a tenerne uno fermo è pur sempre un lanciagranate questo 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 aspetta vedi no no e come avete visto prima siamo anche costretti a tenere il diamond wait no mannaggia che è un tocco attivo non possiamo disabilitarlo però tu sei un genio cosa comunque il passeggero muore si allora signore stia fermo un attimo ho capito ho capito disabilitiamo il tocco ok ragazzi questa se funziona si aspetta si è quello che volevo fare è quello che volevo fare no signore non mi rubi l'auto la prego andiamo papà 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 secondo me non era prevista questa cosa cioè il fatto che poi la puoi anche guidare credo non era pensato credo che solo noi possiamo trovare queste cose tra l'altro mentre abbiamo un amico che dorme in auto mentre noi facciamo un lungo viaggio quanto è glicciato da 1 a 40.000 questa cosa è stupenda è bellissimo sta roba è proprio top non so che auto fosse quindi non so non lo so cosa stiamo guidando è bella veloce quindi secondo me era un'auto abbastanza buona che succede? che succede? allora 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 potrebbe essere ma andiamo qua per sicurezza hai capito? no gli altri si i consolini a difensato capiscono subito questa è un'idea geniale fare questa è un'idea geniale ma che la mia è stata geniale cioè guarda quella dell'auto ma l'ho pensata io questa è chito l'ho pensata io no per amazzo per buongiorno la moto la moto la moto no dovevo trasformare la moto quello sto dicendo perché voglio vedere una moto e parta il paraurti della nostra auto che non vediamo impressionante sta cosa allora pensa a qualcosa di più divertente da utilizzare ecco brava vabbè si è abbastanza banale banale ma avessi pensato qualcosa di più divertente tu sei banale con la tua ideuccia dell'auto e guarda stai ancora in giro con l'auto manco avevi pensato come fare però pazienza l'idea è stata comunque ma la soluzione c'entra niente quella devi trovare tu vado vai wait for it aspetta si si sto volando signori vi presento l'ultimo modello di elicottero mai inventato nella storia dell'umanità si chiama diamante con nulla in mezzo e persona che vola manco fosse una strega e lo potete trovare in tutti gli che molto molto bello e come vedete va parecchio veloce potreste sembrare degli alieni forse qualcuno viveva in giro per la città qualcuno vi spara c'è quella esatta però voi potreste spiegare che comunque tutto ha la normalità si che semplicemente mette il tocco del diamante il tocco del diamante e le persone la roba dei veicoli è la cosa più bella che abbiamo visto aspetta 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 perché qua tu pensi sempre in piccolo fare ma qui ti devi ricordare che c'è l'aereo di linea è un po' difficile atterrare con un elicottero che non vedo capisci un pochino allora ecco che usciamo giustamente dal nostro bellissimo un attimo mi scusi mi scusi mi scusi prendi no no non dirmi che non funziona aspetta aspetta magari dobbiamo colpire il punto giusto dai se non funziona ci rimango malì no mannaggia questo è un prop il nostro sogno è sempre pronto ah lì ce n'è uno in volo ma sta andando via sono molto triste quindi quello potrebbe essere un pochino un problema io prenderei anche un veicolo ma li trasformo perché comunque c'è un po' di roba in giusto secondo me lo troviamo un altro poi magari riesplode chiariamoci però secondo me lo possiamo trovare allora questo veicolo è guidabile si ti andrebbe un jet privato perché no può andar bene ma si è di suo gradimento certo altrimenti tipo questi non sono guidabili neanche uno questa è una bella domanda allora proviamo a salirci esatto per capire se ci puoi salire lo puoi anche trasformare esatto poi magari riesplode però a quello ci pensiamo in un altro momento della giornata buongiorno lei è un aereo guidabile mi scusi no non mi sembra proprio fare neanche a me non mi sembra proprio mentre quello lo è e a noi potrebbe andare bene un bel jet buongiorno 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 tenga ok però adesso rimanga lì no 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 non c'è bisogno dove sta andando no no cosa sta facendo è pacato brutto si 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 cosa sta succedendo signore sembra molto brutto ciò che tiene in mano cos'è cos'è riguardando il video capirai steppe guarda io mi dissocio ovviamente non c'entro nulla con tutto ciò allora come potete vedere abbiamo un nuovo modello di aereo invisibile direttamente intravediamo qualche striscia per farci capire che comunque qualcosa esiste ma noi abbiamo ottenuto il nuovo potere del volo circolante incredibile ho sbattuto un'ala che neanche vedo quindi non sapevo di avere ed eccoci in volo è l'importante partire per i cieli è l'importante partire per i cieli in questo fantastico modo io sono molto felice che voi possiate vedere tale incredibilità staff staff ti prego può essere un po' complesso guidare qualcosa che non esiste come posso capire questa problematica tra gli esseri umani ma noi non abbiamo questo problema come vedete ci gestiamo tranquillamente questo bellissimo aereo con cui possiamo addirittura passare sotto il ponte per dimostrare a tutti che abbiamo la piena consapevolezza di dove inizia e dove finisce il nostro aereo si è comparso il diamante adesso no perchè la nave affondata come potete vedere abbiamo capito esattamente dove era non ho visto la nave c'era una nave una nave una nave si una nave carico merci morta affondata così capita capita anche questo comunque ci fermiamo così per questo video speriamo che abbiate apprezzato il nostro aereo invisibile fatto di diamante che però non vedi veramente è stata un'esperienza incredibile e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao aereo 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 aereo